È di circa 100 il numero dei positivi nella città di Salerno, 92 quelli registrati nel mese di luglio ai quali vanno aggiunti 11 ulteriori casi rilevati dall'1 al 4 agosto. Per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è un dato non allarmante soprattutto alla luce dell'incremento registrato su tutto il territorio regionale che ieri ha avuto 670 nuovi casi positivi e non si stancherà mai di invitare alla prudenza e al rispetto delle regole il primo cittadino del comune capoluogo che continua a chiedere di fare attenzione. Dati rassicuranti arrivano dal numero dei vaccinati. Stango mai di ripetere che bisogna comunque rispettare le prescrizioni minime di profilassi, mascherina come facciamo noi in questo momento, lavaggio delle mani, evitare gli assembramenti e poi soprattutto fare ricorso massicciamente alla vaccinazione per chi ancora non l'ha fatto. Bisogna che soprattutto i giovani ricordano alla vaccinazione che tranquilla, sicura e non testa nessun tipo di preoccupazione per consentire poi l'apertura della scuola in presenza. La scuola è uno strumento di socializzazione e di acculturamento delle giovani generazioni che naturalmente è imprescindibile. La DAD è un palliativo che è utile assolutamente ma che non può sostituire l'insegnamento in presenza perché oltre agli aspetti della trasmissione del sapere c'è anche quello della trasmissione di modalità e di socialità. Sindaco, per quanto riguarda l'attivazione del Green Pass, come verrà garantito rispetto di questa norma a Salerno? Allora il Green Pass intanto è una misura che ci proviene dal fatto che non si è raggiunta l'immunità di massa. Se ci fossimo vaccinati tutti non ci sarebbe bisogno del Green Pass. Il Green Pass è una garanzia per tutti. Se io vado in un ristorante e so che il ristorante accurato, che all'interno del ristorante non ci fossero state delle presenze di persone non vaccinate, io non mi sentirei tranquillo. Se invece so che il Green Pass è stato verificato e controllato a tutti, io mi seggo e pranzo con massima tranquillità.